Sono Paola Binetti e credo che come tutte le persone che ci tengono ad essere informate nel modo più obiettivo sulle cose trovino in Radio Radicale le premesse e lo svolgimento dei concetti anche quelli lontani dalla loro sensibilità, lontani dalla condivisione però nella forma più oggettiva, più concreta e più completa.